bella rega bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi aggiornamento settimanale partiamo subito dal casino raga troviamo la drift tampa armata bellissima sta macchina macchina dedicata allo stuntman morto che faceva drift ragazzi se volete vincere questa macchina semplicemente fare il glitch della ruota lo trovate sul canale anzi oggi ve lo metto anche in descrizione quindi a questo punto passerei subito a ls autoraduno ragazzi dove troviamo la cinque fette raga labrioso come veicolo di ao chi non ce l'ha io ve la consiglio solo per collezione perché per il resto raga fa schifo a questo punto abbiamo la wheel come veicolo del podio del degli ls autoraduno per vincerlo dovete arrivare tra i primi 3 4 nella categoria raga poi abbiamo la specter come vico riprova la callico e abbiamo il vecchio bmw raga la sentinel classic a questo punto una volta fatto pure ls io passerei allo showroom raga dove troviamo la ignus non è quella armata ragazzi e invece a fianco troveremo la adder un vecchissimo veicolo raga che sta ritornando a gironzolare su gta 5 a questo punto andiamo da simeon dove ragazzi troviamo il burrito questo furgoncino qua poi troviamo la banshee raga troviamo il baller st e una volta che ci giriamo a sinistra avremo anche questo vecchio veicolo il virgo e poi abbiamo raga la chimera chi non ha avuto la chimera moddata non può capire come si vaga la ruota avanti ragazzi a questo punto passerei con le attività con gli rp doppi raga quindi troveremo sulle categorie della rockstar modalità competizione questa attività ragazzi è una sorta di staffetta molto carine fatta con gli aerei bisogna prendere una cosa a portarla nella nostra base e viceversa intanto ci sono anche gli altri che ci faranno esplodere è veramente divertente ma vi voglio aggiornare con una notizia bomba hanno aggiunto raga una decina di versus sono semplicemente da quattro persone tutte ditemi cosa ne pensate di queste nuove versus scrivetemi nei commenti se le provate se le conoscevate già invece adesso passiamo a legare quelle a tempo questa qua è quella con l'rc bandito vincerete 100.000 raga questa è quella esclusiva next gen quindi nuova versione di gta ps5 xbox series e poi passiamo qua un po più in alto da zancudo la gara a tempo quella per tutte le piattaforme quella che da 100.000 ragazzi adesso vi voglio raccontare che ci sono come al solito come nell'ultima settimana gli eventi free mode ragazzi sempre attivi per due dopodiché hanno aggiunto due livree per l'avenger hanno aggiunto la livree a camo pink e green quindi rosa e verde raga se vi interessa andatevela a prendere passiamo agli sconti della settimana che sono sui hangar approfittatene se volete perché ci sono in sconto anche le modifiche e se siete amanti del piro o non l'avete mai comprato ragazzi è quell'aereo che veramente è ingestibile è scontato anche quello quindi a questo punto che dire lasciate un like lasciate un commento supportate xavix supportate il canale ragazzi se volete supportarmi alla grandissima abbonatevi e niente alla prossima iscriviti al canale